In questa notte fantastica, in questo inizio del mondo, con mille storie che nascondono Il Jova Beach Party è l'evento musicale del 2019 in Italia, un concerto ma non solo. Il cantante di Cortona, Lorenzo Gerubini, in arte giovanotti, sta conquistando le spiagge d'Italia con spettacoli pirotecnici meravigliosi, sempre in sold out, ma anche con spettacoli che hanno portato con loro polemiche e accuse come quelle di un presunto inquinamento o di sfruttamento del lavoro. A prescindere da ciò, il Jova Beach Party è un successo. L'ultima tappa è stata in Calabria, a Praia Mare, una delle mete estive più amate dai valdianesi, a prescindere da giovanotti, ma in occasione del superconcerto di due sere fa, l'invasione dei valdianesi e dei salernitani è stata totale. Centinaia e centinaia di valdianesi sono arrivati a Praia a mare, hanno parcheggiato a circa 5 km dal palco e hanno poi assistito a circa 3 ore e mezza di spettacolo puro, adrenalinico. Nelle immagini di uno degli spettatori valdianesi, il videomaker Giacomo Casale, si può assaporare l'emozione provata dalle migliaia di persone accorse in Calabria e si può notare l'energia sprigionata da giovanotti nel concerto. Un vero e proprio evento al quale i valdianesi hanno partecipato con estrema gioia e godendosi un divertimento puro.